Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net, alta pressione protagonista sul bacino del Mediterraneo, salvo locali note di variabilità. Lunedì 18, in genere poco o parzialmente nuvoloso, eccetto qualche pioggia isolata sulla Calabria centro-meridionale e sul Pollino. Venti di direzione variabile, mari tutti poco mossi e temperature invariate nelle medie del periodo in considerazione. Condizioni di stabilità dominante anche per martedì 19 ottobre, con locali annuvolamenti più consistenti ma senza fenomeni di rilievo. Venti deboli, mari poco mossi o quasi calmi. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento.